Ha rischiato di saltare ma per fortuna l'amministrazione fanese ha trovato i fondi necessari e anche se con un mese di ritardo parte la sesta edizione di Tineris, i viandanti del gusto e escursioni tra terra e mare. Il progetto di promozione turistica nasce dalla sinergia tra il comune stesso, gli alberghi consorziati di Fano, Torrette e Marotta e l'azienda speciale della Camera di Commercio Aspen 2000. Basato sull'enogastronomia e sulla cultura del cibo l'iniziativa coinvolgerà anche i 21 comuni che appartengono al distretto turistico di Marca Bella per cercare così di promuovere l'entroterra invitando i turisti della riviera alla scoperta delle aziende agricole, degli artigiani, dei produttori locali delle nostre campagne. Insieme ai prodotti enogastronomici una grande opportunità per conoscere anche il grande patrimonio artistico, architettonico e museale della nostra provincia visto che oltre alle 36 aziende agricole che partecipano a questa iniziativa c'è una grande disponibilità da parte delle amministrazioni comunali per mettere a disposizione anche fuori orario musei. Il progetto che prevede una serie di itinerari è dedicato sia ai cittadini che ai turisti che popolano le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari presenti nei 22 chilometri di costa che vanno da Fano a Marotta ma dal direttore della Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche arriva la proposta di estendere ancora più quest'iniziativa nel territorio della provincia. Parte la sesta edizione ma già si guarda avanti. Beh sì, diciamo che dobbiamo potenziare questo progetto, quindi estenderlo un po' a tutto il territorio riverasco della provincia di Pesaro e quindi diciamo io ho fatto un invito all'assessore di prendere contatti con l'assessore di Pesaro, con il sindaco di Gabice, di Mondolvo proprio per far sì che questo progetto dia non solo un qualcosa di diverso al turista ma crei anche delle condizioni per valorizzare i nostri prodotti dell'agroalimentare, le stesse aziende e dare occasioni di commercializzazione dei nostri prodotti. Una delle novità di questa edizione saranno le escursioni serali per dare così la possibilità di conoscere i tineris anche a chi non rinuncia a suo pomeriggio in spiaggia. Le brochure e il programma saranno a disposizione nell'ufficio alberghi consorziati in Viale Adriatico a Fano. Dalle nove della sera fino a mezzanotte, fino a tardanotte, invece di dare l'aperitivo cercheremo di dare un digestivo ai nostri turisti. Abbiamo chiesto collaborazione ai musei aperti dopo cena e abbiamo avuto una bella adesione qui a Varotti con il museo di Pergola, altri musei a Monte Felcino e con questa iniziativa io penso di coprire quell'arco di tempo che i turisti hanno per sapere e conoscere le nostre neogastronomie e la nostra città e i nostri paesaggi.